Uomini e donne anticipazioni, è amore tra Sabrina e Niccolò dopo la scelta, colpo di scena a cancelletto U O N I N I e donne, dove la tronista Sabrina Dio ha deciso di fare la sua scelta finale e consapevole del fatto che la persona alla quale avrebbe confessato il suo amore, forse le avrebbe detto di no. Le anticipazioni di queste ore sul programma di Maria De Filippi rivelano che Sabrina non si è resa e ha deciso comunque di far richiamare in studio Niccolò Ragnolo, il corteggiatore, che nel corso di queste settimane ha fatto breccia nel suo cuore. La scelta di Sabrina Dio a Uomini e donne, colpo di scena finale chi ha seguito le ultime puntate di Uomini e donne sa bene che Niccolò ha comunicato a Sabrina la sua intenzione di voler abbandonare definitivamente la trasmissione, affermando di essere giunto alla conclusione secondo la quale non è attratto abbastanza da lei e come tale non vuole portare avanti questa conoscenza. Una rivelazione shock per la bella Sabrina, che ovviamente non ha reagito bene e in un primo momento ha chiesto a Niccolò di non farsi più vedere in trasmissione. Successivamente, però, Sabrina Dio è tornata di nuovo sui suoi passi e così ha chiesto a Niccolò di tornare di nuovo in studio enne vista della registrazione della scelta finale che il pubblico di Uomini e Donne avrà modo di vederla in onda tra qualche settimana su canale 5. Tuttavia vi anticipiamo che l'esito di questa scelta finale per Sabrina Dio non sarà positivo, Sabrina dopo aver dichiarato il suo amore a Niccolò, dovrà fare i conti con il rifiuto da parte dell'uomo, che deciderà di andare via senza uscire dallo studio collatronista. Colpo di scena a Uomini e Donne, Sabrina e Niccolò stanno insieme oppure no, e così le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che Sabrina ha gettato la spugna ed è uscita dallo studio del dating show di Maria De Filippi da sola, delusa per come si è concluso questo suo percorso? Ma cosa è successo dopo la registrazione della scelta? Ci sono stati dei nuovi contatti tra Sabrina e Niccolò, le anticipazioni di queste ultime ore su Uomini e Donne rivelano che nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Sabrina e Niccolò, dopo che i due sono stati avvistati insieme all'interno di una doscoteca a Milano? Cosa è successo a questo punto? Possibile che Niccolò abbia deciso di tornare sui suoi passi e sia ritornato da Sabrina per chiederle una seconda possibilità? Al momento Niccolò non ha risposto alle domande dei suoi fan, vi aggiorneremo nelle prossime ore. Grazie a tutti!